Quando io vedo che alla Assemblea del Lacer i piccoli, non i soliti grandi nomi dell'imprenditoria romana, i piccoli si lamentano di un'assenza di progettualità e di opere che partono, penso che non è che lo dicono perché automaticamente vogliono addossare all'amministrazione marino chissà quali responsabilità, lo dicono perché evidentemente oltre al cantiere che abbiamo visto alla stazione Termini, noi altre opere che sono state messe in cantiere non ne vedono. Quando Rutelli stesso dice che in previsione giubileo non ci sono cantieri,